Le imprese costituite fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 in Liguria possono ottenere l'esenzione del pagamento dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive per 5 anni. Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 marzo e l'esenzione deve essere richiesta online. Un diritto che va esercitato, spiega Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova. Per questo, insieme alla Regione e alle associazioni di categoria, chiediamo alle imprese e ai commercialisti che le assistono di presentare la domanda di autocertificazione e di avvio all'attività per ottenere lo sgravio fiscale per i primi 5 anni. L'azzeramento dell'IRAP è un intervento della Regione dedicato alle nuove attività che ha una prospettiva di più ampio respiro, rivitalizzare il tessuto produttivo ligure composto per la maggior parte da micro, piccole e medie imprese per migliorare la loro capacità di investimento e sostenere i loro progetti di crescita. Richiedere l'esenzione dall'IRAP è facile ed è possibile farlo direttamente online, seguendo questi quattro passi. Andare sul sito www.impresainliguria.it e cliccare sul box dedicato all'esenzione IRAP. Verificare di essere in possesso dei requisiti per presentare la domanda di esenzione e controllare il codice ATECO 2007 per classificare la propria attività economica. Scaricare i modelli di dichiarazione sostitutiva e di autocertificazione per la dichiarazione di inizio attività, modello 1 e modello 2. Inviare i moduli compilati in tutte le loro parti entro il 31 marzo 2017,